Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Non mormorare, lasciarsi attirare da Dio. Ecco due punti meravigliosi che possiamo cogliere dal Vangelo di questa diciannovesima domenica. Gesù ha appena moltiplicato i pani e sta spiegando il significato di questo segno. Ad un certo punto afferma di essere lui il pane vivo disceso dal cielo e i giudei al sentirlo iniziano a mormorare dicendo tra loro costui figlio di Giuseppe conosciamo i suoi familiari come può dire di essere il pane vivo disceso dal cielo? Ecco quello che dice Gesù supera la loro capacità di comprendere, non è secondo le loro categorie e anziché lasciarsi condurre dalle parole del Signore si chiudono nella mormorazione. Questo verbo nella Bibbia, specie nell'Antico Testamento, ha un significato diverso, più profondo rispetto a quello che ha nella nostra lingua corrente. Nel mondo biblico la mormorazione è un atteggiamento che racchiude sfiducia, sospetto nei confronti di Dio, incredulità, mediocrità, lamento. Quindi è un atteggiamento che ha a che fare con una mancanza di fiducia nei confronti del Signore. Ricorderete il popolo di Israele sperimenta la bontà di Dio in tantissimi modi. Viene liberato dalla schiavitù, nel deserto viene nutrito di manna, di quaglie, viene dissetato con acqua scaturita dalla roccia e puntualmente ad ogni difficoltà parte la mormorazione, il lamento contro Mosè e soprattutto contro Dio. Ma allora il Signore è con noi, a cura di noi? Ecco, è quell'atteggiamento, purtroppo che tante volte sperimentiamo nella vita, di continuo sospetto. Come se Dio dovesse meritarsi la nostra fiducia a suon di prestazioni. Se Dio dà ciò che chiediamo, se Dio fa ciò che vogliamo, gli accordiamo la fiducia. Altrimenti ecco il sospetto, ecco il dubbio, ecco il lamento. Ma allora Signore, mi vuoi bene? Sì o no? Se mi ami, fai questa cosa. E se le cose non vanno come previsto? Ma allora cos'è servito? Ma cosa prego a fare? Ecco, questa è la mormorazione, un atteggiamento interiore che può diventare anche il lamento esteriore che ci chiude alla fiducia. Ecco perché Gesù parte dal dire non mormorate. Vedete, se vogliamo imparare ad ascoltare il Signore, se vogliamo entrare in un rapporto di fiducia più profondo abbiamo bisogno di non mormorare, saper rendere grazie al Signore per i Suoi doni, per i Suoi benefici e se le cose non andassero come avremmo voluto, abbandonarci alla Sua volontà, certi che il Signore non permette nulla se non per un bene più grande. Noi vediamo da qui a lì, Dio vede molto più lontano di noi e ci dà sempre più di quel che chiediamo, ci dona infatti se stesso. Ma vedete, questo comando di Gesù, non mormorate, potremmo applicarlo ad ogni situazione della vita, anche tenendo conto del normale significato che questa parola ha nella lingua italiana. Quante volte noi infatti mormoriamo, cioè brontoliamo interiormente, ci lagniamo e tante volte questo diventa anche lamento esteriore. Quando è che ci viene da mormorare? Ad esempio quando le cose non sono come vorremmo, non vanno come avremmo previsto, quando capitano degli imprevisti, oppure mormoriamo ad esempio contro gli altri quando sbagliano, ma non solo, anche quando fanno qualcosa di diverso da come noi siamo abituati a fare. C'è gente che mormora perché il coniuge o il figlio spreme il tubetto del dentifricio a metà e non dal fondo, mormora se stende in un modo diverso da come stende lui, insomma, a volte mormoriamo anche per delle sciocchezze. Altre volte tendiamo a mormorare quando le persone ci dicono qualcosa di diverso da ciò che pensiamo o da ciò che avremmo desiderato o voluto. Peggio che peggio se a farlo è qualcuno verso il quale abbiamo un po' di pregiudizi. Questo può succedere ad ogni livello. Ad esempio un responsabile ci dice di fare qualcosa o di non fare qualcosa e a tutti i sacrosanti motivi per farlo. Può essere il genitore, può essere l'insegnante, può essere l'educatore, può essere il superiore in una comunità religiosa, può essere il parroco in una comunità cristiana, può essere il vescovo, può essere il papa stesso. Quindi ti dice sì o no. Che succede? O lo si accoglie con umiltà e con fiducia, anche se lì per lì può toccare un po' nell'osso, oppure parte la carica dei 101 interiore. Iniziamo a borbottare e gorgogliare versione vecchie caffettiere e giù con tutti i nostri sacrosanti motivi. Iniziamo pure a fare i vittimoni, gli incompresi, quelli non valorizzati, quelli non capiti e iniziamo a guastarci mente e cuore. Peggio ancora quando iniziamo a parlare con gli altri, cadiamo nella maldicenza e cerchiamo alleati con cui mormorare allegramente o tristemente ed ecco la sagra dei delusi, la fiera dei vittimoni, giù a lamentarsi, a piangersi addosso perché? Perché non mi capisce, non mi valorizza, non ha fatto un buon discernimento e via dicendo. Oppure quando è che mormoriamo? A volte quando non capiamo. I giudei mormorano perché? Perché Gesù sta dicendo qualcosa di più alto, sta annunciando una sua origine divina, qualcosa che supera il loro comprendonio e loro che fanno si chiudono nella mormorazione. A volte è così, quando qualcuno ci parla e ci dice qualcosa di più alto, qualcosa di più profondo, qualcosa che immediatamente non cogliamo, o ci apriamo con umiltà a quanto ci dice e cerchiamo di approfondirlo chiedendo spiegazioni, cercando di maturarlo oppure attacca la mormorazione. Ora, qual è la costante tra questi semplici esempi che ho cercato di proporvi? È essere ripiegati su di sé, è voler che tutto sia come voglio io, che tutto vada come dico io, insomma essere io il centro, la sindrome dell'ombelico del mondo. E tante volte questa sindrome ci impedisce di vedere la realtà per ciò che è e finiamo a fare un po' come la famosa favola della volpe dell'uva. C'era una volpe che voleva raggiungere un succoso grappolo d'uva che era posto in alto, siccome non ci arrivava, alla fine desistette dicendo a me tanto è acerba. Ecco Gesù parte dal dirci non mormorate, secondo lasciatevi attirare, nessuno può venire a me se non lo attira il padre, dice Gesù. Ecco da dove parte la fede. La fede parte dal lasciarsi attirare a Dio, dal lasciarsi attirare a Cristo e corrispondere a questa attrazione. Nel significato immediato, questa attrazione a Gesù la esercita il padre, è lo spirito che è sottointeso, in forza delle parole di Gesù. Attira a Lui, quelle parole parlano al nostro cuore e ci attira al Signore. Gesù stesso dirà più avanti nel Vangelo, quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Sant'Agostino diceva, quando senti queste parole, non pensare a chi sarà attratto e a chi no, accettale, accoglile, lasciati tu attirare a Cristo. Ecco la fede, miei cari, non parte da un nostro sforzo, ma dal corrispondere a un'opera di attrazione che Dio esercita su ciascuno di noi. In senso più largo, Sant'Agostino diceva, ognuno è attratto dall'oggetto del suo desiderio, Metti dell'erbetta davanti ad una pecorella e la attirerai a te. Metti delle caramelle davanti a un bambino e lo attirerai a te. Metti davanti al cuore dell'uomo il bisogno d'amore, di pace, di verità. Ecco come Dio ci attrae a sé. Anche in un cammino di discernimento si tratta di metterci in ascolto del Signore e lasciarci attirare a Lui, lasciare che il suo amore ci attiri, corrispondergli secondo la sua santa volontà. E a volte, vedete, ci attira nell'interiorità, ci attira con un desiderio di bene maggiore, a volte ci attira a sé anche attraverso la contrizione, soprattutto quando stiamo andando fuori strada, e a volte ci attrae attraverso l'inquietudine, quando vuol dirci qualcosa di più, vuol darci qualcosa di più, per dire c'è qualcosa di più che voglio donarti, non accontentarti, e a volte ci attrae a sé anche attraverso i bisogni delle persone che abbiamo accanto perché possiamo uscire dal nostro egocentrismo e unirci più profondamente a Lui e donarci più generosamente agli altri. Chiediamo la grazia al Signore di imparare a spegnere il disco rotto della mormorazione, di ripartire dalla gratitudine per i Suoi doni, di abbandonarci fiduciosi alla Sua provvidenza quando le cose non sono come avremmo pensato, Dio ne pensa di più grandi, e di lasciarci attirare da Lui, di corrispondergli generosamente e di unirci sempre più intimamente a Lui, che è via verità e vita. Che il Buon Dio vi benedica! Pace e bene a tutti!